Dai Verona, facci sognare. Veloz contro Modena. Veloz contro Modena, soprattutto a 580, non riescono a tenere, assolutamente. Allarga il gioco. Buono l'intervento definitivo e l'attigio molto bene. Un pallone in vitale. E il portiere spinge. Vioz contro Modena. Mincio. Sì, però Modena è baggato. Che laggato. Modena è baggato, cazzarate, ma io non può tirare così. Ma, così è. La velocità dei giocatori è veramente imbarazzante. Cazzo, tipo, a parte la Zarevic, figa nel Modena, sono dei paracarri, eh, cioè. Scusa, paracarro. Viene interrotta l'azione offensiva. Oh, non vuoi passare! Sorry, easy for me Eh, TNG, TNG Oddio, c'è dei tifosi nei orecchi che urlano forza muore Fallo Perché hanno capito già quale la squadra vincente Colombi che finge di fare... Finge di parare Burlona Ah, pensavi di avermi inserito, eh, voglio... Oh, e basta questi core pro mode, mamma d'affanculo Non ho capito l'utilità di questo colpo di testa Ragazzi, stiamo facendo una partita decisamente orribile Per tutto più tranquillità Proprio adesso sta ricavando al tuo occhio Lo vede troppo poco più, vuole molto più pressing La parte tua quando era troppo largo Vuole stare un po' più, eh, verso l'inizio Troppo di mano La parte tua è iniziale Qui è iniziale Un po' più La parte tua è iniziale Agostini! Direttamente dalla MotoGP! Che no! Bellissimo Dobby, Silly! Agostini! Easy for Modena, sorry! Easycutter! Ssh! Please, bitch! Oh, you cut! Bitch, please! Che parata che ha fatto? Guarda Nielsen che calcia! Che parata! Ma che clamoroso opportunità! Ma che partita sta a vedere? Ssh! È un'occasione ripetibile! Usi sarebbe un bel prossimo mezzo! Si fa sconto! Chi è la parata! Chi è la parata! Cosa ha preso? Questi portieri di B! i per non compagno scartemani non lo riconosco mai cazzo per domani più brutto ecco bene ricordo per domani numero 9 non mi ricordo solo che il pisci c'è al 23 il pisci questo giro non c'è perchè era grigio il giro a sinistra c'è william ma è non pervenuto in questo primo tempo non l'hai mai visto np ero sempre figo, ero sempre su dall'azzare vicino forro un po' di più qui è qua william è quello coglione lì quello che sta correndo dietro non sono in chiera per il campo a casa quando vedete la palla lì va beh guardalo eh guardalo eh guardalo non può non l'ho anche preso è impossibile fare pronostici partita molto equilibrata come che hai fatto così tanti tiri tu? non so che cazzo statistiche rubate che cosa ho preso? che cosa cazzo ho preso il mio potere? un uomo capri è blu se lo becco rosso cosa ha mi costruisce tu mi prende la balle andava a fare gol questo ma prendi mattugno e fa un muro fa un muro se ne vai dice gli uniformi rush oddio che cos'è oddio oddio raga adesso no che cazzo è successo ti ha leggermente bloccato il gioco William hai visto perché gli attacchi passano sempre dall'Azaro che partita rubata che cazzo non si capiva più niente veramente era solo davanti al portiere Beppe Fabio insomma dopo che il portiere ha fatto una papera Ardemagne è riuscito a tirare la torre no ha detto c'erano troppi giocatori davanti a lui sorry easy cut for me ma che paga io mi faccio il culo io mi faccio il culo tu arrivi tutti e si io non sono dato un macchino bingti io sono faceto un culo di una madonna per insegnare questi emet oh ti ricordo che questo qua è la squadra che mi ha arato prima oh di ma si deprimono facilmente i miei giocatori credono poco nelle loro potenzialità perché vedi ormai si adagiano sugli allori no tu invece hai quel sintomo di rivinci che si è Revenge infatti sembritti qui la mini driver che si è tipo si Revenge 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 non è un'ottima scelta di tempo per il calcio d'angolo di merda che batto io ogni tanto non è un'ottima scelta di tempo Ard Magni che ti sei mangiato? Ard ti mangi? Ard che mangi? Ard si mangi al gol io non pensavo che ci entrasse vaga Davogono oh che bel verono eh ci dovrei precisare che il verone è ancora in undici eh oh il verone è in undici oh il verone è in undici BELLA MADONN ex albinokin ex albinone lancer no l'è no l'è questo vero non mi piace, c'è dentro due ex hanno bisogno onesti che proprio... il quartisto dove cazzo sto? tu che li ho arretrati un po' ma non dovete stare a metà campo quando siamo in attacco, idioti tag siamo nel tuo host dai dai non così sei veramente una merda non dire così che se poi a te mani guarda questo video che cosa dice scusa perde mani guarda il video che cosa dice che una merda che cazzo c'è andata slovenia si con ets sono in slovenia è bra oh ciccio CORRI oh ciccio oh è perso oh è perso dimmi ahi dai dai ma come solo un calcio di punizio non ho fatto niente grande Verona Revenge Verona Revenge ho fatto il doppio dei tuoi tiri